Il sabato noto più figo d'Italia si chiama Mata! Avremo un'istate pazzesca, un turno icidiale, faremo tante coppie in Italia, arriverremo in Puglia dappertutto insomma, seguiteci sul nostro Facebook e in Internet. Grazie Lorenzo De Blanc, l'applauso, onori di casa al mio principe, I love you, un grande ritorno in console, la serata che lo vedeva protagonista si chiamava Casino Royale, signori e signori, torna in console al Madame Andrea Mattioli! Grazie a tutti! 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.